La gioia a promozione del campo basso esplode all'Angelini con i giocatori a festeggiare assieme ai 500 tifosi rosso-blu. La squadra di Pergolizzi, subentrato sulla panchina la sesta giornata di andata, si impone 2-0 sul Chieti e torna tra i professionisti con una giornata d'anticipo, visto che nel duello a distanza con l'Aquila la squadra di Cappellacci non va oltre lo 0-0 a Termoli. Il campo basso dunque torna in Lega Pro dopo due campionati vinti di fila. Per il Chieti c'è ancora una timida speranza di agguantare la zona playoff, ma devono verificarsi alcune condizioni favorevoli, forse troppe. Luisa non può contare sullo squalificato Salvatore e l'infortunato Conson. 4-4-2 il sistema di gioco scelto con Cucciniello avanzato a centrocampo e in fase di possesso palla a dar manforte al tandem d'attacco Mercuri-Fall. Per Golizzi che alla squadra al completo risponde con il 3-5-2, in avanti Di Nardo Romero che hanno deciso l'incontro, arbitra Andrea Terribile di Bassano del Grappa. Campobasso subito col piede sull'acceleratore, primi dieci minuti in cui costruisce due clamorose palle goal. Al sesto tracciante di Parisi al lato di un soffio, due minuti dopo Laziz salva sulla linea su colpo di testa di Gonzales spintosi in avanti. Al decimo ancora Molisani con una conclusione fuori bersaglio di Maldonado. Il Chieti si scuote, Gaie si mette in proprio e lascia partire un tiro deviato in calcio d'angolo. Sugli sviluppi, esposito da pochi passi, spreca il gol del vantaggio. Ora la gara diventa più equilibrata. Nel finale di tempo probabilmente manca un calcio di rigore a Chieti. Bonacchi interviene così su un traversone dalla destra. L'arbitro fa continuare tra le proteste dell'Angelini. L'intervento falloso sembra piuttosto netto. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Chieti subito pericoloso, punizione di Castellano, la sfera arriva a Forgione che colpisce a volo. La palla attraversa l'area senza trovare deviazioni amiche. Al sesto ospiti sfortunati. Il fendente del nuovo entrato Lombari colpisce in pieno la traversa, proprio sotto lo spicchio di stadio dove ci sono i tifosi rosso-blu. Al sedicesimo il campo basso la sblocca. L'azione parte da Gonzales. Romero anticipa tutti e insacca alle spalle di Serra. Da qui in avanti tanti cambi. Al ventiseiesimo intervento di Serra su conclusione di Di Nardo. Il bomber molisano fa centro al quarantesimo, tredicesima rete in campionato per l'ex vastese. La gara è in ghiaccio. In pieno recupero Gaillet prova ad accorciare senza fortuna. E dopo il triplice fischio si attende solo il risultato di Termoli che sta ancora giocando al Cannarsa. Quando lo 0-0 diventa ufficiale, tutti a far festa.